Color Your Life, giovani talenti crescono! Qui al Color Campus ci svegliamo dai nostri sogni colorati e iniziamo la nostra Color Giornata andando al mare. Con l'aiuto di Enrica iniziamo a fare i primi esercizi muovendo le braccia e le gambe per toglierci il sonno che ci sta addosso. Questi esercizi ci servono per la nostra postura e nello star bene con il nostro corpo. Quindi dopo un quarto d'ora è il momento più atteso, quello del tuffo. Tutti nei Color siamo felici e divertiti nello stare in mezzo alle onde con i nostri amici. Tra sorrisi e risate giochi e tuffi spericolati è il momento di tornare al Color Campus, ma noi Color siamo carichi di emozioni e grinta perché sappiamo che ci aspetta una magica giornata.